Benvenuti nel collegio di Dragon Ball Super. Zeno, la divinità di tutte le divinità, si è sintonizzato su Rai 2 e, affascinato dal collegio, vuole replicare questo gioco nel mondo di Dragon Ball. Decide di trasportare tutti i guerrieri Zeta in una scuola, una vera accademia per Goku, Vegeta e tutti i loro amici. Il Daishinkan sarà il preside e sceglierà tutti i professori più severi in circolazione. I guerrieri Zeta vengono convocati alla nuova accademia per iniziare i loro esami di ammissione. Vediamoli insieme. Nuovo annuncio. Domenica, primo dicembre 2019, sarà il negozio GameStop del centro commerciale Arese, in provincia di Milano, dalle ore 16 alle ore 19. L'evento è gratuito e potrò giocare con tutti voi in occasione della Xbox Gaming Experience. Non mancate! E quindi questi esami stanno per iniziare. Sono davvero curioso, mi raccomando ragazzi, lasciate adesso un like se volete che magari questa diventi addirittura una serie. Non so come mi sia venuta in mente l'idea di fare il collegio di Dragon Ball Super, però appena mi è venuto in mente ragazzi, mi ha fatto ridere un botto. Mi raccomando, iscrivetevi ora al mio canale, altrimenti vi perderete i prossimi video, magari i prossimi episodi di questa serie, e se non vi iscrivete vi perderete poi anche la serie che farò su Dragon Ball Z Kakarot, che uscirà a gennaio e là ragazzi faremo migliaia di video, quindi iscrivetevi ora. Ma finalmente iniziamo questi esami al collegio di Dragon Ball Super. I primi esami sono davvero molto molto semplici, proprio come quelli del collegio, ho visto qualcosina e mi sembrano veramente banali. Gli esami sono singoli ed il primo che dovrà affrontare l'esame è Goku e dovrà fare almeno una Kamehameha. Peccato che il suo avversario in realtà sia proprio Freezer, quindi sarà da vedere se contro uno dei professori riesce effettivamente ad essere un buon combattente oppure no. Io ragazzi per far giocare la CPU ho fatto un mezzo casino, ma in realtà è una cosa anche abbastanza semplice. Il Goku lo voglio Super Saiyan Blue. E Freezer scegliamo quello dorato. Quindi ragazzi l'esame deve essere qualcosa di tosto, di serio. E vediamo quindi cos'è che succede. Vediamo come se la giocherà appunto questo Goku. Ovviamente io non ho le mani sul controller. L'esame ragazzi per essere passato da parte di Goku, come dicevo, deve almeno fare una Kamehameha e deve andare a segno. Io ragazzi 15 spero. È andata a segno, attenzione, ma non è valida al 100% perché deve colpire l'avversario. Quindi qui i professori dovranno poi valutare se è andata oppure no, però ragazzi eccola qua. La Kamehameha l'ha fatta. Gli esami quindi almeno quelli iniziali sembrano essere abbastanza banali, abbastanza passabili. Ma Goku in ogni caso deve stare molto attento perché nel caso in cui perda, potrebbe anche non essere ammesso. Anche se è comunque riuscito a scagliare la Kamehameha e a colpire praticamente il proprio professore. Perché sì ragazzi Freezer è uno dei professori. Gli altri professori quali saranno secondo voi? Eh ragazzi, sono professori in realtà abbastanza cattivelli. Quindi vediamo un po'. Continuano a subire un bel po' di colpi. Freezer dorato è messo in realtà benino rispetto a Goku. È comunque un bel professore, è comunque messo là per riuscire a distruggere chiunque tenti in qualche modo di accedere. In ogni caso manca davvero pochissimo e attenzione, attenzione! Ragazzi, Freezer, il professore, è riuscito a sconfiggere Goku. Questo ragazzi è un colpo di scena. Mi sarei aspettato di vedere Goku da subito ammesso. Eppure ragazzi è riuscito nell'intento di colpire l'avversario con Akamehameha almeno una volta, ma è stato sconfitto. Quale sarà la decisione dei professori? Sarà ammesso oppure no? Lo scopriremo tra poco. Ad eccoci qua ragazzi! È arrivato il momento di Vegeta. Vegeta Super Saiyan Blue. Dovrà affrontare Kid Buu, uno dei professori più pazzi di sempre. Tra quelli un attimino più schizzatelli e vedremo se effettivamente lui passerà l'esame oppure no. Il suo obiettivo quale sarà? Deve fare almeno un canone Galick e beccare il proprio avversario. Deve colpire effettivamente a pieno il proprio professore e ovviamente dovrà anche sconfiggerlo. In base al fatto se riuscirà a resistere o meno, in base al fatto che riuscirà o meno a fare questo canone Galick, verrà approvata la sua ammissione al collegio di Dragon Ball Super oppure no. Vedremo ragazzi. Quindi ragazzi, l'ammissione non è assicurata in primo luogo, per quanto sia un grande combattente, ma deve portare a termine diversi obiettivi. Anche fare una parata perfetta è un punto a favore, riuscire a battere l'avversario, fare determinate mosse. Quindi ragazzi, ci sono dei determinati requisiti da andare a soddisfare. Da come vedete il professore sta iniziando a farsi valere, per quanto in ogni caso riesca a beccare Vegeta alle spalle. Al momento vedo che non riesce a fare altre mosse, ha fatto una presa. Vediamo, vediamo perché lo scontro continua. Sembra che riesca a sconfiggerlo, quindi ragazzi, Vegeta sempre ribellino al massimo, non è riuscito a buttarlo giù, attenzione, però ci riesce. Quindi non ha fatto il suo canone Galick necessario per la missione, però ha fatto veramente un'ottima prestazione. Cosa ne penseranno i professori e soprattutto il preside? Verrà ammesso oppure no? Forse ora la situazione inizia a farsi complicata, perché è arrivato il turno di Gohan di essere accettato? O forse no. Vediamo un attimino se lui verrà ammesso nel collegio. Deve fare una Kamehameha, quindi mossa molto basilare, vediamo come inizia. E sembra iniziare in maniera abbastanza cauta, con dei colpi di energia, e poi riesce a colpire l'avversario. Anche se ragazzi, i professori sono stati scelti apposta dal Daishinkan, non sono dei banali combattenti. E come vedete si scaglia con cattiveria contro Gohan, ragazzi, che sembra essere un attimino sottotono in questo scontro. Per quanto sia riuscito, attenzione, a riprendersi all'improvviso, ci tiene ad essere ammesso e soprattutto a non fare brutta figura con suo padre e gli altri guerrieri Z. Quindi da come notate riesce in primo luogo a fare poco fa una stamina break e poi a colpire più volte Broly. Deve però fare una Kamehameha. Vediamo se questa riuscirà a farlo oppure no. Magari scagliando via qualche volta l'avversario. Come vedete sembra essere molto confuso, perché Broly, ragazzi, incute molto timore. Non che Vegeta non abbia avuto timore di Kid Buu, anche Freezer ha messo pure a Goku. Però tendenzialmente Broly lo conosciamo tutti per essere abbastanza spietato, cattivo e addirittura Gohan gli tiene testa con uno scontro assurdo. Vediamo un po', eh. Attenzione, Gohan, spostati! Oh ragazzi, questo potrebbe essere il primo combattente, effettivamente, e parlo di Gohan, è chiaro, a fare uno scontro veramente sottotono. Ragazzi, Gohan sta rischiando veramente tantissimo. Quindi ragazzi, potrebbe essere forse uno dei pochi a fare una battaglia veramente pessima. Sembra essere già stanco. Stava per fare una Kamehameha, ma purtroppo qualcosa è andato storto. Gohan, ti prego, continua a combattere, non ci deludere. Sei o no il figlio di Goku, ma nulla. Ragazzi, Gohan, qui purtroppo, credo che si sia giocato davvero tutte le chance di entrare nel collegio. Solo alla fine di questo video vedremo chi sarà provato oppure no. Questa sfida potrebbe essere altrettanto tosta. Ragazzi, Trunks del futuro contro il Professor Cell Massima Potenza. Cose folli, ragazzi, me ne rendo conto, però è divertente, mi fa divertire come cosa. Lui dovrebbe riuscire a fare un masenco. La mossa ovviamente ce l'ha, quindi bisognerà vedere se Trunks del futuro è forte abbastanza da ricordarsi come si combatte contro gli androidi, perché ad un certo punto, ragazzi, Trunks sappiamo che ottiene un potere incredibile e impressionante. Ora come ora dovrebbe riuscire effettivamente a sconfiggerlo Cell. Vediamo, vediamo, ragazzi, perché è chiaro, qua si giocano la missione e forse non ve l'ho detto, ma Zeno ci tiene parecchio a questo gioco, a tutto questo scherzo che però per lui è una cosa seria. Quindi, ragazzi, chissà, magari chi non viene accettato potrebbe effettivamente essere cancellato così dal nulla con uno schiocco di dita. Quindi, Trunks, giocati bene il necessario per entrare. Cerca di fare anche il masenco. Attenzione! Trunks che sembra giocare non sporco, questo no, però riesce ad accecare l'avversario e il masenco lo fa! Ragazzi, Trunks, incredibile, guardate come si scansa i colpi dell'avversario. L'ha fatto poco... cioè, nel giro di pochissimi secondi, si è scansato ben due volte e continua ad utilizzare i teletrasporti in maniera veramente ottima. Deve stare attento perché ora ha poco vigore, ma fa un'altra volta il masenco, ragazzi! Al momento Trunks è quello che ha fatto la battaglia migliore. Io speravo di più in Goku e Vegeta, ma al momento Trunks è l'unico che se la sta giocando veramente bene, anche se ha subito qua un bel po' di colpi. Quindi, Trunks, mi raccomando, cerca di giocartela per bene. Te la stai giocando molto. Ancora un altro masenco! Trunks! Ma cioè, che gli passa, raga? Non è riuscito a farsi la parata perfetta, sei l'incredibile! Un professore che ha capito subito le potenzialità di questo alunno e di questo futuro ed ipotetico alunno, perché non è detto che verrà provato, però ragazzi, proprio lui al momento è quello più sicuro. Si è fatto pure una parata perfetta. Trunks, mi raccomando, non perdere ora, eh? Fino ad ora sei riuscito a fare di tutto e di più. Trunks, stai perdendo! Non la perdere, perché sarebbe una cosa inaccettabile, eh? Continua a colpire. Trunks, tifo per te! Al momento sei quello per cui io sto tifando. Ragazzi, che cosa ha fatto? Si è scansato una camia mia che stava arrivando e andando alle spalle dell'avversario. Io al momento non vi dico ancora nulla, ma credo che Trunks verrà promosso a pieni voti, o meglio, passerà gli esami a pieni voti e di conseguenza entrerà di diritto all'interno di quello che è il collegio, l'Accademia di Dragon Ball Super. Ci sono ovviamente anche altri combattenti Saiyan e non solo che vogliono entrare nel collegio. Oggi riusciremo a vederli tutti? Credo di no. Magari potrebbe servire una nuova puntata e nuove rivelazioni in futuro, eh? Magari con nuovi combattenti che si uniscono all'improvviso a quello che è il collegio, però ragazzi, oggi voglio comunque vedere almeno altri due combattenti e il primo dei due è Krillin. Lui, ragazzi, secondo voi, è in grado di superare un vero e proprio esame fatto come si deve? Beh, ragazzi, vediamo. Ed eccoci qua, Darbula, un altro dei professori, considerato comunque molto spietato, non il più forte tra tutti probabilmente, ma comunque un professore che, quando vuole, sa essere veramente diabolico. Mettiamola così, chissà perché. L'obiettivo di Krillin, oltre che vincere, come sempre, è fare un super Kienzan. Questo lo metterebbe in una condizione di pieni voti per quanto riguarda l'esame da missione. Diciamo che, da come notate, non ha iniziato un granché. Krillin, ragazzi, sta scappando, c'ha paura. Attenzione! Una Suprema? Che però non è andata a segno! Ragazzi, una Suprema avrebbe dato davvero tantissimi punti per l'ammissione a Krillin, se però fosse andata a segno, cosa che purtroppo non è successa, e quindi questo non dà alcun valore aggiunto a quello che ha fatto Krillin per ora. Scaglia vari colpi di energia. Quindi, ragazzi, da come vedete, sta utilizzando una tecnica molto diversa rispetto a quella degli altri. Perché, ragazzi, fino ad ora, praticamente, tutti quanti hanno combattuto andando vicino all'avversario, facendo gli vari colpi. Lui ha attaccato per lo più da lontano e tende comunque ad allontanarsi. Ma, ragazzi, Krillin, niente da fare. Peccato, peccato. Gli mancano una ventina di secondi, ma non credo che in quei 20 secondi, in primo luogo, riesca a recuperare, ma poi riesca a fare anche il Kienzan. Veramente molto male. Una piccola delusione, Krillin, ci hai delusi veramente tanto. Come esponente della Terra, ci aspettavamo qualcosa in più da te, e invece veramente nulla da fare. Krillin, vergognati. Mi dispiace, te lo dico, Krillin, vergognati. Ti parte l'hashtag nei commenti, Krillin, vergogna. Ragazzi, nulla da fare. Krillin, vedremo, eh, magari i professori saranno buoni, ma non credo. E questo, forse, sarà lo scontro più esilarante tra tutti. Ragazzi, abbiamo Yamcha e uno dei professori è il Cyberman. Quindi, ragazzi, abbiamo uno di quei professori, sapete, che arriva all'inizio dell'anno, dopo già 15 giorni viene mandato via, uno di quelli un attimino più strani. E, ragazzi, per noi coincide con il Cyberman. Quindi, uno scontro, in realtà, abbastanza facile per Yamcha. Però, una condizione importante, ecco, era, oltre a fare una Kamehameha, e questo già gli permette di acquistare punti, e fare anche un nuovo Artiglio del Lupo. Una delle mosse caratteristiche di questo Yamcha, che, come vedete, è scatenato. Veramente scatenato, addirittura con la presa. Ha subito pochissimi danni fino ad ora. Quindi, forse, ragazzi, che sia finalmente il momento di riscattarsi per Yamcha. Come vedete, gli riesce a fare un botto di danni. Ha subito pochi colpi. Guarda, guarda, se la sta giostrando bene, ma, attenzione, il Cyberman inizia a svegliarsi. Perché, ragazzi, è pur sempre uno dei professori, non può mica farsi pigliare in giro da tutti gli altri professori. Ancora un'altra Kamehameha. Yamcha, però, un Artiglio del Lupo, fallo. Facci vedere di che pasta sei fatto, e soprattutto quali sono le tue mosse caratteristiche. Fallo ora, guarda, guarda, era... era proprio fattibilissimo. Attenzione, l'ha fatto, ragazzi. Yamcha se la sta giocando davvero alla grande. Parliamoci chiaro. È avvantaggiato, però, è anche una fortuna. La sua è stata molto fortunata a trovare un avversario, un professore di questo tipo. E, ragazzi, sta vincendo. Sta vincendo, quindi, anche lui tra i migliori alunni, o meglio, tra i migliori futuri alunni. E quindi la battaglia si conclude qua. Tendenzialmente, quindi, questi erano i primissimi esami. Ma adesso vediamo i responsi. Cioè, i risultati degli esami. Direi che ci siamo. Goku, Super Saiyan Blue, è stato sconfitto. Non è riuscito, effettivamente, a battere l'avversario, ma ha fatto più volte la Kamehameha. Quindi ha fatto anche una buona battaglia, e tutti i professori, il preside, compreso il Daishinkan, hanno deciso di ammetterlo. Perché, pur sempre, è un gran combattente. Un discorso simile vale anche per Vegeta, poiché non è riuscito a fare, comunque, il canone Galic. Ma ha fatto una grande battaglia. Questo gli ha permesso di avere tanti punti, e di conseguenza essere ammesso. Purtroppo Gohan, ragazzi, non se l'è gestita molto bene. Gohan, ragazzi, al momento non è stato ammesso. Ma, nel caso in cui riuscisse a farsi valere in degli allenamenti, potrebbe comunque accedere al nostro grandissimo collegio. Trunks ha ammesso a pieni voti per quanto riguarda il suo esame, e di conseguenza viene anche considerato tra i migliori alunni, e da cui ci si aspetta anche di più all'interno del collegio. Per quanto riguarda poi gli altri, stiamo parlando di Krillin e Yamcha, purtroppo, ragazzi, Krillin non è stato ammesso. In nessun modo, purtroppo, ragazzi, Krillin è andato veramente molto molto male. Krillin vergogna come hashtag, e quindi nulla da fare per lui. Però Yamcha, ragazzi, Yamcha, in questa sua versione, ci ha stupiti. Yamcha è stato ammesso ed è stato tra i migliori, superando potenzialmente, almeno all'inizio, anche Goku e Vegeta per la sua prestazione. E poi, ragazzi, gli altri, stiamo parlando di piccolo, Tenzing, Goten, Trunks, quello lì piccolino, quelli sono stati ammessi oppure no? Non si sa, ragazzi. Magari lo scopriremo in un nuovo ipotetico episodio, perché questo doveva essere un singolo video, ma potrebbero esserci tutti i presupposti per dei prossimi video. per dei prossimi episodi. Che ne pensate? Datemi dei consigli qua sotto nei commenti e fatemi sapere cosa ne pensate di questa cosa divertentissima, ma un po' folle. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi ora al mio canale, cliccando qua al centro, guardate altri video cliccando qua, a destra e sinistra. Quindi alla prossima, ciao!